che bello si contento si sono super 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 contento cosa c'è dentro prima devi aprire poi vedi cosa c'è come si apre con le mani devi salire fatto wow che belle ti piacciono si è proprio quelle che volevo le desideravo un sacco da da tantissimo tempo sono contento che ti piacciono si quindi lo metterai sempre no no perché non mi piacciono più